Il progetto Singenta per la biodiversità si chiama Operation Pollinator e consiste nel seminare dei bordi campo o comunque delle zone non necessariamente molto fertili dell'azienda con delle essenze di leguminose che garantiscono il pabulum per gli insetti impollinatori a partire da febbraio fino a settembre-ottobre perché queste essenze hanno una fioritura scalare e quindi gli impollinatori che normalmente nei mesi estivi non riescono a trovare tanto cibo possono tranquillamente sfamarsi in questi bordi campo. La funzionalità di Operation Pollinator non risiede solo nel fornire un habitat idoneo per gli impollinatori ma abbiamo visto in diversi anni di sperimentazione che è anche rifugio per piccoli mammiferi, per farfalle, per uccelli. Si stanno incrementando, lì dove è stato già messo Operation Pollinator da diversi anni, si sta incrementando anche la presenza di specie diverse di uccelli. Al di là di questo Operation Pollinator può anche essere usata come cover crops e tende ad aumentare, trattandosi di essenze leguminose, tende ad aumentare anche la fertilità di quei terreni che comunque abbiamo detto sono marginali.